Buon pomeriggio a tutti, benvenuti nella sezione d'intervista del giornale di Puglia, italianotizia e maestrote.it. Stasera parliamo di arte, stiamo con due ospiti, Giovanna Salvatore, benvenuta. Grazie, Edo, per tessi invito. E poi c'è sempre Gimmi. Buonasera a tutti. Ciao, Edo, caro. Benvenuto. Parliamo di arte, sì, siamo qui a Martina Franca, siamo qui nella sala della mostra di Andy Warhol. Quale sala migliore per poter parlare di arte con i nostri ospiti. Con Giovanna Salvatore parleremo del suo evento insieme a tutto il suo staff che ha fatto questo weekend a Martina Franca, WayCart, quindi quelli che parleremo proprio di questo evento, ovviamente sull'arte, mentre con Giuseppe e Gimmi parleremo della sua vena artistica e dei progetti che ha per quest'anno 2020. Eventualmente citiamo qualche evento, qualche tuo progetto 2019, visto che stiamo, facciamo una e l'altra. grande collaborazione con loro, soprattutto. Infatti, poi parleremo anche di questo. Quindi, iniziamo con l'evento di Giovanna, quindi WayCart. Raccontaci cos'è questo evento, Giovanna. Certo, buonasera innanzitutto. Il WayCart Festival è un evento multidisciplinare che pone al centro dell'attenzione il dialogo tra le arti visive, figurative e letterarie, chiaramente territoriali. Quindi noi mettiamo in primo piano le potenzialità dei talenti, degli artisti territoriali. L'evento, come diceva Edo, Edoardo, il dottor Giacobazzo, è con Condivisione Italia, quindi questa community presente ormai in 20 territori in tutta Italia. Quindi l'idea è quella di replicare la stessa mostra, quindi il WayCart Festival, anche in più città, in più paesi, in modo tale che i nostri talenti locali, come dicevo, essendo un evento multidisciplinare, ci sono sia fotografie, e ci sono stati, fotografie, pittura, delle installazioni, quindi diverse forme d'arte, tutte insieme, sotto un unico tetto, presso Allegretaria Martina Falca, si è tenuto questo evento in tre giorni. Il primo giorno c'è stata appunto la presentazione di tutti gli artisti, e anche di Gimmi, di Giuseppe Gimmi, che è un'artista del territorio, e quindi noi, questo, l'obiettivo principale di questa mostra è proprio quello, dare visibilità a tutti quelli che sono i nuovi talenti, porre l'arte al centro dell'attenzione. E il secondo giorno ci sono state anche due presentazioni di libri, quindi quando parlavo di evento multidisciplinare, anche letterario, diamo voce anche ai nuovi talenti, erano tutti i nuovi scrittori, tutti i libri presentati, Monica Passiatore, Lida Metà d'Ambrogio, Antonio Di Piero, erano tutte alla loro prima pubblicazione. E noi crediamo proprio in questo, che la forza delle artisti staglia nella loro validizzazione, in primi sul territorio di nascita, e poi estenderlo a costa di sieda. Tra l'altro, faccio un complimento a Giovanna, perché è sempre attiva, non solo sull'arte soltanto, ma solo sulle culture in generale, quindi complimenti e non mollare. Grazie. Non fermarti mai, tanto è difficile fermarla, quindi sono sicuro che andrà bene. Poi ci fai vedere qualche foto, è un po' la lista degli artisti, così lo scriviamo anche all'interno dell'articolo, perché molte persone, come io, sono convinto di questo, non sanno, anche se c'è informazione, c'è sempre una disinformazione, tante informazioni, ma con tanta disinformazione. Vero? È vero, voglia, la pubblicità non è mai abbastanza, perché spesso, vabbè, oggi con i social, facendo l'utilizzo giusto dei social, ecco perché la maggior parte dei nostri artisti sono giovani, e per quanto i più grandi dicano i social vengono mal utilizzati, invece no, c'è anche un modo per utilizzarli al meglio, quindi condividendo queste forme d'art. Condivisione in Italia. Esatto, esatto, proprio così, su tutti i social abbiamo stramato Instagram, Facebook, cerchiamo di utilizzare i social al meglio, quindi però ovviamente non è mai abbastanza la comunicazione e la pubblicizzazione. Assolutamente, quindi complimenti a Giovanna, che è veramente un pino di idee e anche di arte a questo punto. Invece con Giuseppe e Jimmy vogliamo affrontare i progetti che ha fatto più o meno il 2019 e che ha in prospettiva nel 2020. Quindi, caro Giuseppe, raccontaci chi sei, anche se l'abbiamo già fatto nella scorsa intervista, questa estate, raccontaci chi sei e quali sono i progetti. Realizzo questa linea di maglie ispirata agli anni 80 su richiesta della gente, quindi la gente un po' diventa protagonista, con delle frasi, con delle scelte uniche soprattutto. Poi ho avuto la fortuna di stare con loro, ma innanzitutto perché ci sono tanti stili diversi ed è importante imparare perché non si finisce mai. Imparare perché c'era magari uno che creava dei tattoo, dei quadri, delle foto. Io ad esempio che creo queste linee di magliettine. È bello perché dopo aver fatto tanti lavori a tanti personaggi anche dello spettacolo, citiamo Gerica Lale, Sandro Borghi, da Fabri Fibra, sono veramente contento di parlare di questa mia vita un po' in retro, ispirata a queste anni 80. Infatti, voglio spiegare a chi ci ascolta. Allora, Giuseppe ha una malapena, 22 anni. Nel 97, sì. Praticamente lui realizza questa grafica sulle magliette personalizzate in stile anni 80, ma lui negli anni 80 non l'ha mai vista. E quindi raccontaci un po' come usa questa passione. È incredibile. In realtà c'ho dei grandi pilastri nella mia vita, come si usava in quei tempi, musica e cinema, come le grandi saghe di Borotalco, a quel sapone. e quindi io mi ispiro tantissimo a quei tempi e perché soprattutto io grazie alle maglie riesco a far capire alla gente che la semplicità è ancora qualcosa di unico, qualcosa che può cambiare la vita. Però la gente, ripeto, è protagonista, è protagonista di una vita perché purtroppo adesso si corre. Avanti, dietro, non diamo più importanza ai piccoli valori. Quindi dietro delle piccole creazioni c'è una vita, praticamente c'è il grande Cina, ci sono i miei miti, da Carlo Verdone, da De Sica, miti che, ripeto, ho avuto la fortuna di conoscere i miei prossimi obiettivi. Ce ne sono tanti obiettivi in questo futuro. Quindi, giusto per comprendere, gli anni 80 ti hanno trasmesso dei valori che ritrovi maggiormente in quel periodo e con maggior difficoltà nel periodo attuale. Esatto. Apprezzo, sì, apprezzo un nuovo periodo con la tecnologia, come diceva anche prima Giovanna, con l'uso dei mezzi, dei social, che va a velocizzare tanto. Ci sono state le magliette che sono arrivate in Messico grazie ai social, questo è molto importante. Però, grazie a queste creazioni e questi film riesco a riscoprire questa semplicità. Grazie alla gente, innanzi, perché la gente si racconta, è la gente che fa poi la storia, in realtà. Comunque non sei l'unico che spesso mi cita gli anni 80 come anni fantastici, anche se non l'hai mai visti solo dai film, Giovanna. Tu cosa ti ricorda l'anno 80, cosa ti trasmette? Raccontaci un po' anche la tua versione così, poi ci rilasciamo al buon Giuseppe. Beh, sicuramente erano, cioè, già sono stati degli anni di transizione. Allora, a me l'abbigliamento agli 80 non piaceva, partiamo da questo presuppato. Io sono un esteta, esatto. Però una cosa, ecco, un lato positivo è sicuramente si evince questa voglia di fare questo grande cambiamento, questo affaccio nel nuovo millennio, quindi era in questo senso, vedo tanti segnali positivi. Per quanto riguarda l'estetica, ripeto, l'abbigliamento non era dei, diciamo, dei miei preferiti. Quindi valori sia agli 80 e vestiario. Esatto, sì. E invece a proposito di vestiario, Giuseppe rispeccia spesso anche l'outfit agli 80. Compro tanto di quei tempi, ma anche arredamento di casa, dei vecchi tappeti persiani, c'ho due o tre quadri giganti su Sergio Leone, che l'ho scoperto un annetto fa sui grandi film western e questo mi sta portando, per questo nuovo anno, a iniziare un nuovo corso di aiuto regista. Quindi diciamo che la prospettiva 2020 è aiuto regista, eventualmente regista proprio. Magari il mio sogno sarebbe tanto scrivere qualcosa, ripeto, legato poi alla vita quotidiana, magari con alti e bassi, perché la vita non è sempre qualcosa di... sono delle piccole, diciamo, piccole botte di nostalgia, piccole botte di allegria, che dura un minuto, va, dura pochissimo, però ci fa stare bene. Quindi sono dei nuovi progetti. Continuare, ovviamente, con questa linea, con la gente che magari richiede a qualcosa di unico, perché è la cosa più bella, per me è la cosa più bella del mondo. La personalizzazione, la voglia. Vedere anche tanta gente, io sono felice di aver collaborato con loro, perché vedere tanta gente curiosa, ma c'era veramente un casino di gente, ne scoprire anche, soprattutto. Poi la cosa bella è che c'erano tanti giovani, tanti ragazzi. Sì, c'era la fila amanti, erano tutti i bambini piccoli lì a ascoltare. E avvicinare i ragazzi al mondo della cultura, dell'arte, è una cosa che per me è meravigliosa, ecco, perché di solito prende una fascia d'età un po' più alta. Certo. Durante il WayCat c'erano veramente tanti ragazzi. Quindi sono molto contento di questa intervista, e a questo punto faccio il mio bocca al lupo personale a Giovanna, per tutti i suoi progetti. Grazie mille Edo e grazie a tutti. Per l'arte e lo spettacolo, in generale cultura, e per Giuseppe e Jimmy, il mio bocca al lupo per il suo futuro e per i suoi progetti. Grazie, Edo. E negli anni Ottanta, io credo negli anni Ottanta. Che tornino, non dobbiamo. Noi crediamo negli anni Ottanta, quindi è un po' una fissa. Anni Ottanta, greet again. Devi prendere l'auto di Torno al Futuro, sai quella che poi tornavi indietro, devi fare quella là, con Doc. Bene ragazzi, buona serata, tutti e bocca al lupo. Alla prossima. Arrivederci.